Abogado defensor in il caso Akita, Aldon Pepe, Solveran, è la sala di defraudare fuori di corte a meinta. La corte ha chiesto che ha dimostrato la evidenza che un empleato pubblico corrupto debì nella sua relazione con il commerciante di iniziale 6, e l'ultimo ha che lo ha cumprì, come tale ha mantenuto la debilità e l'aspetto di integrità in sua funzione. Il abogado Solveran non è completamente sorprendente, señalando un'opico strano del caso di Babel. Il abogado di Querico, ancora non può considerare Sjato culpabile, non può provare il contrario di questa appellazione. Elezione. La scelta che abbiamo spiegato di come, la scelta che abbiamo contato anche, non è accettabile per me che questa è un'email importante, che è un ministero pubblico che ha ordinato a produzione e-mail, non è produzione e-mail, non è conto, non sono 50 anni, che è e-mail dispersato, non puoi andare per internet, in Italia non è visto, non puoi e-mail, ma non è un'email di più, 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 ma questo sistema è il sieno, che ora non può sentire andare a parlare, non puoi andare a parlare. Ma cosa mi ho aspettato, è che mi ho aspettato in corte, perché non è accettato la storia, con un'email di più che non è existente, non è un caso, non è accettato. Di come ho avuto le conseguenze, che il ministro pubblico è un'email di più, cosa mi ho aspettato, non è una storia, cosa mi ho aspettato, è una storia, non è una storia, non è un'email di più, non è un'email di più, tra un rapporto con il nostro donato che è molto unlikely che l'e-mail lo può perdere. È impossibile che l'e-mail lo perdere in corto tempo, senza che non abbiamo utilizzato due, perché in Italia non abbiamo messo il sistema di backup. Di conseguenza, non c'è nulla, ma non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla e non c'è nulla, ma non c'è nulla, ma non c'è nulla, ma non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, ma non c'è nulla. Abbiamo un problema con il gruppo di perseguire, non c'è nulla, ma non c'è nulla. Abbiamo un problema grande con noi, ma se poco a poco, il Paese è un unico che può scappare il Paese che è una rivoluzione, non c'è nulla, non c'è nulla. Ma non c'è nulla, il Ministero Pubblico ha dettagli per perseguire questo che è? Ma non c'è nulla, ma non c'è nulla? con il perseguimento, però sempre ora tu regla tu conta, tu rendi. Non puoi essere sinistra con la cabeça del paese qui, che tu pari in un instante non gubernamentale serio, tu sei la cabeça junto, come tu hai fatto, non castigato per eliminare un contrincante politico. Ah, mi non voto per Gerard, mi voto per MFK, per lo che tu stai sordendo, non puro. E poi, simplemente, non puro. Quindi, conseguentemente, mi ricevi un cambio del paese qui. Però foi 10, 10, 10, non c'è un problema serio del paese qui. Oltre foi a Rubac, Holanda, con otro paese democrático, niente, non puoi denomini servo, con niente instruzione del paese qui, concreto. E il Procuratore General con noi stai, ti tre chef. E ti sono in Holanda, che ti dirige, quindi, stai qui, stai un problema del paese qui. Non c'è un problema con la sentenza qui, però il sistema di una bestia sin attacco, non puoi fare niente, o altro nel momento qui. Il signor Scuato può partecipare normalmente nella elezione, non sta a apelare. E poi, questo va di nuovo, ma ti ho comandato che, nel sistema democratico, non è un problema, non è culpabile, che ora una sentenza vera definitiva. E poi, ma, che, regularmente, quando sta in sentenza, in prima instanza, quindi, è stata libera di una appelazione di controllo. Lo che si, mi ha detto, è, 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 mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, è, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, è, mi ha detto, è, mi ha detto, Sono sicuramente, è, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto,mani, non puoi fare Nuna, dalti. un corte superior.